ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video allora oggi è un giorno importantissimo perché è il compleanno di Giorgia adesso andiamo a vedere quello che sta facendo qui Giorgia che come la tradizione vi ho detto sta giocando con la playstation ma in realtà sta guardando i video lei non sta giocando comunque qui invece c'è Piozza che dorme e adesso salutiamo la nostra festeggiata e noi andiamo a preparare la torta qui c'è anche Giada ovviamente Sabrina Manuel e su che guarda il telefono non so e Gabriele è andato lì e quindi niente adesso io voglio preparare la torta ciao profittiamo visto che ancora giorno allora è arrivata la frutta e la verdura calcolate che ho l'ho prenotata ho chiamato stamattina me l'ha importata aspettate scusatemi adesso che sono diciamo per le 19.30 quindi diciamo che vabbè non vi dico niente faremo le nostre considerazioni alla fine allora il totale della spesa è 34 euro e 60 vi lascerò in sovraimpressione mano a mano che vi faccio vedere le cose qual è il prezzo che ho pagato per per ognuna e così poi alla fine quando faremo il video di confronto vedremo allora qui ci sono le pere queste poi qui ci sono le melanzane il cavolfiore le banane ce ne sono esattamente 10 il cavolfiore ve l'ho fatto vedere le carate poi qui ci sono le patate qui le zucchine anche qui di nuovo quelle chiare poi qua il sedano pia è arrabbiata e poi qui le cipolle dorate ok questo è tutto quello che gli ho chiesto e basta anche qui comunque c'è niente da dire sulla qualità della frutta e della verdura perché è veramente bellissima quindi diciamo che finora tutte e due comunque mi hanno portato della frutta e della verdura molto bella e niente vabbè volevo farvela vedere adesso la vado a mettere a posto e ci vediamo poi più tardi tanti auguri a te tanti auguri a Giorgia tanti auguri a te tanti auguri a te se voli a stare guarda guarda ti avevo detto che facciamo schifo ma siamo intonati come delle campagne Ho fatto 3.000 pasti Oh, sì, sì Oh, cavolo, non so come si fa Eh, ma... Non so come si fa Posso? Sì No Guarda 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 Ma dico che sotto c'è l'altro piatto Prendi le forchettine, Gianna No, sotto non c'è una Fai quello che vuoi, tanto vuoi metto il silenzio Non ti posso filmare Guarda che ti filma, non fai il furbo Mamma, tu hai sbagliato la tuta La senterai che colpi di cordone Non sapete che con 7.7 Gianna, ti avviò metto colpato Vogliamo vedere che taglia la fita Dai Pia La mia prima, la mia fetta Ciao, tia Comunque il telefono di Manuel ha una fotocamera che... Mamma mia No, è bella come fotocamera Però... Scusate per noi Scusate un po' Scusate un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.